amici di jack italia ben ritrovati una nuova puntata di martedì jack ovvero la rubrica settimanale nella quale in meno di cinque minuti vi mostriamo delle novità dei trucchi sempre legati ovviamente alla g suite for education oggi parliamo di una nuova funzionalità di documenti che ci permette di confrontare due versioni di due file diversi facciamo un esempio io qua ho un documento relativo ovviamente con un testo segnaposto in latino al mese di ottobre invece qua ne ho un altro che ha a che fare con novembre che è partito diciamo da come base dal dal documento di ottobre ma è stato modificato alcune cose sono state aggiunte altre sono state tolte ecco se io avessi bisogno di vedere appunto cosa è stato tolto e cosa è stato aggiunto rispetto a quest'altro file beh ecco adesso finalmente anche su google documenti questo è possibile come come si fa si va all'interno del menu strumenti si va su confronta documenti all'interno di confronta documenti ci viene quindi richiesto di selezionare il documento da confrontare io in questo caso mi trovo all'interno del documento di ottobre quindi andrò a selezionare nella cartella il documento di novembre una volta fatto questo possiamo attribuire a chiunque vogliamo le differenze quindi supponiamo che le differenze siano state realizzate dal mio collega mario rossi posso includere anche i commenti del documento selezionato premendo il tasto confronta viene di fatto creato un terzo documento che viene aperto con il tasto apri che vedete qua e entrando appunto in questo terzo documento avremo modo di vedere tutte le modifiche fatte dal nostro mario rossi che appunto ha eliminato questa parte che è sbarrata ha invece aggiunto queste parti che vedete colorate un modo molto molto semplice appunto per trovare le differenze all'interno di due documenti diversi